Sindaco Maurizio Brucchi, come risponde al Movimento 5 Stelle che interviene sulla gestione dell'amministrazione comunale, sui contratti e sugli affidamenti? Io ho detto in più di un'occasione, dico sempre ma lo dico in maniera scherzosa, che prima di fare certe affermazioni bisogna studiare, studiarsi le pratiche, conoscere la macchina amministrativa. Il Movimento 5 Stelle però mi smentisce ogni volta perché dimostra con gli interventi che non la conosce la macchina amministrativa, quindi deve approfondire un po' di più gli argomenti. Per qualsiasi appalto, per qualsiasi tipo di servizio dopo una gara c'è l'aggiudicazione provvisoria, poi c'è l'aggiudicazione definitiva, poi bisogna presentare tutta una serie di documenti e si firma il contratto. Ma con l'aggiudicazione definitiva di fatto il contratto è già in essere, a volte anche con l'aggiudicazione provvisoria si può iniziare un'opera pubblica. Il fatto che alcuni contratti non siano ancora firmati è nelle cose e purtroppo nella lentezza burocratica che non dipende dal sindaco Brucchi perché per firmare un contratto occorre qualcosa come 13 o 14 documenti che bisogna portare all'amministrazione. Quindi è tutto nella norma sul fatto di Frat Arcangeli, sul fatto che se si postano non si postano fare multe. Noi a Frat Arcangeli in questi anni le multe le abbiamo sempre fatte, detraendo dalla somma che dobbiamo ogni mese a Frat Arcangeli. L'avvocatura ha ricevuto da me il mandato per verificare se per quel periodo in cui c'è stato quel ritardo ci sono i presupposti perché venga multato. Se così sarà lo vedremo, lo deciderà l'avvocatura. Ma loro insistono anche su altri argomenti, per esempio hanno detto che l'housing sociale non ha un contratto, non conoscono bene i fatti, perché esiste un documento sottoscritto dal sindaco Brucchi e dal responsabile finanziario della società investita e immobiliare con la quale si mette nero su bianco quelli che sono i vari passaggi e anche il cronoprogramma per via Longo. Cioè voglio dire, se bisogna fare polemica, tanto per far polemica va bene, fa parte dei giochi dell'opposizione, però io credo che in un momento così difficile, particolare della nostra città ma del nostro paese, bisogna essere seri, bisogna essere coeredi e soprattutto bisogna essere preparati, cosa che il Movimento 5 Stelle dimostra di non essere.